Buongiorno ragazzi, in questo brevissimo video affronteremo un aspetto della figura di Gertrude presentata da Manzoni nei capitoli 9 e 10 dei Promessi Sposi. In particolare con questo video vorrei fornire un aiuto a tutti quelli che si trovano impegnati nella lettura di questi due importanti capitoli, per mettere a fuoco uno degli aspetti più drammatici, quasi tragici di questa figura. Io ho chiamato questo aspetto il dramma della libertà, ho scritto volutamente dramma e non tragedia per delle ragioni che chi vorrà poi approfondire questo argomento potrà in qualche modo mettere a fuoco. Cerchiamo di capire in cosa consiste il dramma della libertà di Gertrude, io ho semplicemente ricondotto, riferendomi al testo di Manzoni ovviamente senza inventare nulla e semplificando una questione molto evidente, che questo dramma si può riassumere nel dire no o nel dire sì alla volontà diversamente espressa dal padre riguardo al destino di Gertrude. Dire no vuol dire rifiutare la monacazione e affermare la sua volontà, la propria volontà di Gertrude, mentre dire di sì, cioè accettare la monacazione, significa sottostare a un'altra volontà, quella del padre. Le scelte entrambe sono difficili, sono entrambe scelte difficili. Perché entrambe? Perché per ognuna di esse occorre fare, usare una certa forza e fare in certo qual modo una certa violenza, ma ora capiremo meglio. Per dire di no occorrono forza, determinazione e volontà di opporsi al padre. La forza e la determinazione di opporsi alla volontà del padre e di rinunciare all'affetto della famiglia. Chi di voi ha già letto saprà che la fine del capitolo 9 coincide proprio con il ritrarsi dell'affetto della famiglia e di ogni altro affetto. L'unico affetto che Gertrude trova è quello di uno sguardo di un paggio e lei scambia questo affetto per l'affetto più grande che le mancava. Ci vuole molta forza per dire no a un padre così determinato, di cui poi tra l'altro si desidera l'amore e l'affetto della famiglia. Ma per dire di sì alla monocazione occorre altrettanta forza e determinazione perché a che cosa si deve opporre Gertrude dicendosi a se stessa? Al proprio desiderio di realizzazione che lei aveva ben intuito nei primi anni del monastero non essere quello della monacazione. ora vediamo quali sono le tappe di questi sì e di questi no che lei prova a dire e che non riesce a dire per quel che riguarda i no e i sì invece che in qualche modo dirà. Ho provato a schematizzare, cercherò di farmi capire questa questione così. Allora tappe dei sì e dei no. Questa è una sorta di, perdonatemi, schematizzazione della letteratura che è solo funzionale, non aggiunge niente alla lettura del testo. Possiamo dire che, come abbiamo visto prima, per dire no ci vuole una certa volontà e determinazione. Per dire di sì ci vuole una volontà e una determinazione minore, nel senso dell'opposizione al padre. no? Ma come vedremo questo dire sì costerà una certa fatica anche a Gertrude perché appunto abbiamo visto dovrà rinunciare a se stessa. Vediamo quali sono queste tappe. Prima tappa. Lei scrive, capitolo 9, scrive una lettera per essere accolta in convento. È convinta dalle monache a scriverla. Con quale argomento? È una formalità. La tua volontà potrà sempre essere affermata dopo. Di di sì per ora e poi casomai dirai di no. Il no viene differito. Lei trova però il coraggio. Trova il coraggio. Qui ha una grande volontà, una grande determinazione e scrive una lettera al padre dicendogli io non desidero a mio monaca. Il problema qual è? Che una lettera è un rapporto ancora indiretto, non è un messaggio comunicato in presenza al padre al quale il padre potesse rispondere immediatamente. E di fatti in questo spazio il padre sta in silenzio e finge di non avere niente da dire. Finge non tanto di non averla ricevuta, perché lì fa capire di averla ricevuta, ma che la sua volontà era contraria a quella della figlia. E glielo fa capire contro, senza parlare, col silenzio e con l'isolamento. Gertrude è isolata. E allora abbiamo già detto c'è un'altra lettera che non riguarda la sua monacazione, ma al paggio per dirgli chissà che cosa aveva bisogno d'affetto. Viene scoperta e chiede perdono. Perché chiede perdono di una colpa che non sapremmo ben definire nella sua gravità? Chiede perdono perché ciò che desidera è l'affetto del padre. E il padre prende questa richiesta di perdono come un sì a un'altra domanda, alla monacazione. Tra l'altro facendo un grande ricatto, dicendo alla figlia una delle cose più terribili che si possano dire a una persona e cioè che il perdono bisogna meritarselo. Si chiama ricatto. A questo punto Gertrude partecipa ai festeggiamenti per questo sì che lei aveva detto per chiedere perdono per la lettera e che il padre ha interpretato come invece un sì alla monacazione e durante i festeggiamenti lei non ha un attimo per se stessa, non ebbe un attimo di bene, dice Manzoni. Cioè lei è trasportata dalle circostanze e ogni cosa che fa in questi festeggiamenti è un implicito sì alla monacazione. Finché arriva il momento del colloquio con l'abadessa. Perché in rosso? Perché nel colloquio con l'abadessa lei deve parlare esplicitamente con qualcuno. La sua libertà deve essere esplicita, deve dire che vuole entrare in convento. E qui uno sguardo di una compagna mentre lei sta per entrare in convento, a dire questo sì all'abadessa, uno sguardo di una compagna che la guarda come per dire ti sei fatta fregare, le ridona l'antico coraggio, volontà e determinazione a dire no. E quando sta per dire no si gira, vede gli occhi del padre e la sua volontà cede. E di fronte all'abadessa dirà esplicitamente un sì. Voglio farmi monaco. A questo punto c'è dello spazio, altri festeggiamenti e lei sceglie una dama per quel giorno. E Manzoni lo dice che lei sapeva benissimo che scegliere una dama voleva dire in qualche modo continuare a dire un sì che non voleva dire, fino a quando si arriva al colloquio con l'esaminatore, di fronte al quale lei progressivamente rinuncia alla sua volontà e alla sua determinazione di dire no. Perché ormai la catena di sì che ha detto involontariamente sarebbe troppo grande da essere smentita. E quindi preferisce mentire ancora una volta che trovarsi indischiata nello spiegare tutta quella catena di avvenimenti che l'avevano portata fino a lì. E Manzoni poi taglia tutta una parte e ci porta direttamente al voto ufficiale. E lì fu monaca per sempre. Come vedete anche sintatticamente la frase che esprime questo ultimo sì è meno tormentata. È una frase indipendente molto semplice. Perché ormai la volontà e la determinazione di dire di no sono sparite e però Gertrude ha dovuto inghiottire un boccone ancora più maro, cioè la rinuncia alla propria volontà e alla propria determinazione. Con questo schema potete rileggere le due parti dei due capitoli dedicati a Gertrude che diventa monaca e provare a sottolineare alcune parti all'interno del testo. E cioè questo percorso è sicuramente descrivibile come una violenza da parte del padre, una violenza a cui lei in qualche modo accetta di sottostare. Come si esercita questa violenza da parte del padre? Io ho identificato due strumenti, le parole e i silenzi. I silenzi, come vedrete, come avete già visto, se avete già letto, sono quasi più importanti delle stesse parole. Allora vi chiedo a tutti coloro che hanno voglia di fare questo lavoro di rileggere questi due capitoli e di sottolineare tutte le parti in cui il padre esercita una certa violenza su Gertrude attraverso il silenzio o attraverso le parole. Buon lavoro a tutti!